Penso spesso alla stanchezza dei sacerdoti e prego per questo specialmente quando ad essere stanco sono io. Nella Basilica Vaticana durante la Messa del Crisma Papa Francesco ha descritto le varie forme di stanchezza che possono colpire un sacerdote, anzitutto quella della gente, delle folle. Per un sacerdote infatti quando non si chiude in ufficio o non va in giro con i vetri oscurati, le storie della propria gente non sono un notiziario e gli partecipa alle gioie e ai dolori di quanti gli sono stati affidati spezzettando il proprio cuore. Questa stanchezza, ha rimarcato il pontefice dinanzi a quanti nel corso della celebrazione hanno rinnovato le proprie promesse sacerdotali, è una stanchezza sana, quella del pastore che ha l'odore delle proprie pecore con il sorriso di un papà che contempla i suoi figli. Più insidiosa invece è la stanchezza dei nemici. Il maligno è più astuto di noi ed è capace di demolire in un momento quello che abbiamo costruito con pazienza durante lungo tempo. Qui occorre chiedere la grazia di imparare a neutralizzare. È un'abitudine importante, imparare a neutralizzare. Neutralizzare il male, non strappare la zizzania, non pretendere di difendere come superuomini ciò che solo il Signore deve difendere. Nel corso dell'omelia, prima di benedire gli oli dei catecumini e degli infermi e il crisma, Papa Bergoglio ha richiamato l'attenzione su un'ultima stanchezza, quella di se stessi, una forma autoreferenziale che fa civettare con la mondanità spirituale. A tutti il Pontefice ha chiesto di imparare a riposare, ricordando che anche il riposo è una cosa di Dio.